La Nissa va vicina ad un vero e proprio Arachiri nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia contro il Camarat, ma alla fine si salva vincendo la lotteria dei calci di rigore e accede ai quarti di finale della competizione che se vinta vale la promozione in eccellenza. I biancoscudati reduci dalla vittoria a Camarata per 2-1 passano in vantaggio nel primo tempo con una bella conclusione di Tomaselli, la qualificazione sembra ormai in cassaforte, la squadra allenata da Di Matteo sfiora anche più volte il raddoppio nella ripresa come spesse volte le è accaduto cede inspiegabilmente all'avversario. Il Camarat infatti prima pareggia e poi addirittura passa in vantaggio mentre i biancoscudati si divorano almeno tre palle gol per chiudere il match. La gara si conclude con il risultato di 2-1 per il Camarat che è fotocopia della gara di andata in cui prevalsero i nisseni. A questo punto per stabilire la squadra che deve passare il turno il regolamento prevede i calci di rigore. Dal dischetto per i biancoscudati falliscono Penalve e Serrao ma le parate di Armando Maritato alla fine risultano decisive e la Nissa si impone per 8-7. Adesso bisognerà attendere il sorteggio dei quarti di finale tra le avversarie più forti c'è il rischio di dover affrontare la supercorazzata Siracusa. L'eventuale accesso alle semifinali potrebbe però garantire la promozione del campionato di eccellenza.